5 ottobre Preghiera per ottenere la grazia per intercessione della Santa Maria Faustina Kowalska Il 5 ottobre di ogni anno ricordiamo e onoriamo la grande suora polacca, Santa Maria Faustina Kowalska, che sin da piccolissima sentì dentro di sé il fortissimo desiderio di unirsi al Signore a Gesù Cristo, di dedicare la sua vita a colui che aveva sacrificato la sua per redimere i peccati del mondo. Suor Faustina ebbe anche colloqui con Gesù e il 22 febbraio 1931 proprio Gesù apparve in Polonia, alla suora, canonizzata nel 2000 e le affidò il messaggio della devozione alla divina misericordia. Si ritrovano anche importanti profezie sul futuro del mondo legate a questa immensa sua ora polacca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Gesù, che hai reso la Santa Faustina una grande devota della tua immensa misericordia, concedimi, per sua intercessione e secondo la tua santissima volontà, la grazia di… Per la quale ti prego. Essendo peccatore non sono degno della tua misericordia, ti chiedo perciò, per lo spirito di dedizione e di sacrificio di Suor Faustina e per la sua intercessione, esaudisci le preghiere che fiduciosamente ti presento. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Suor Faustina prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.